Sto filmando? Sì, sto filmando. Abbiamo trovato una tartaruga, poverina, illamata con un artificiale. Vuoi tirarla su? La vogliamo tirarla su? Tirala su così respira che c'è la testa sotto. Occhio che morsa, eh! Come fai a prenderla? Allora, dove la metto? Ah, qua di dietro. Siamo attenti, siamo attenti a... Occhio che morsa, eh! Dai, ti ha preso subito. Ma che spettacolo! Ah, tartarughini! Dai, che adesso ti salviamo! Ui! Chi è lei? Uno lì, due. Diavolo, sta fermo! Hanno anche della forza! Non so, metti la mano te sopra Michele, così magari... Come il dito di Pippo. Ah, lo voglio fare. Due! Vai che ci siamo quasi! Dove vuoi girare sotto il peccato? Non lo vedo più. Ce l'hai quasi? Non lo vedo più. Non lo vedo più. Provo, ah! L'ho preso, ma... Ce l'hai? Devi tirare però un po' più verso... Aspettate, che razziglione mi farà anche male, Purina. Libera! Dai, libera! Sento le mani. Dai, va! Dai, Luca! Dai, mi ha spinto una spina di più. Vai, libera! Via! Oh, grande! Che spettacolo!